Un centro storico, quello di Camerino, ancora ferito dal sisma del 2016, ma che vuole rialzarsi. A questo è Firruge che ha unito amministrazione, sovrintendenza e Università di Camerino per un progetto di arte e cultura che vede al centro le opere provenienti dai musei civici della città Camerte e ospitate sino al 3 novembre presso il rettorato di Unicam, sito appunto nel centro storico cittadino. Oggi per la prima volta andiamo a sperimentare l'uso del rettorato come uno spazio aperto anche a cittadinanza aperto anche ad altri che non siano dipendenti studenti dell'università. 18 capolavori per un percorso espositivo sensoriale artistico che fa rivivere la storia di Camerino attraverso l'arte e lo fa con dei capolavori di grande pregio. C'è l'annunciazione che è un'opera straordinaria di immenso valore sia storico-artistico che anche identitario perché simbolico più che identitario perché proviene da una vecchia chiesa che oramai non esiste più era dei frati minori a spermento e adesso insomma ritorna di nuovo visibile. L'obiettivo della mostra è anche quello di far ripartire il centro storico e far tornare i cittadini a rivivere la propria gorà. Inoltre vuole essere anche un volano per riportare attrazione turistica. Questa è una mostra fortemente voluta dall'amministrazione che fa ritornare in centro una parte delle opere della collezione civica. Sicuramente un allestimento temporaneo in attesa poi che vengano terminati i lavori del polo museale San Domenico dove l'università sta andando avanti con il cantiere. La mostra è aperta a tutti, cittadini e visitatori e per tre mesi si potrà così ammirare la bellezza e la meraviglia del patrimonio artistico Camerte.